Devo dire che siamo molto felici di collaborare e lavorare insieme a Bologna Fiere, al Comune e Mambo per gli eventi in città, naturalmente sempre al fianco di ConfCommercio Ascom Bologna che ci rappresenta e devo dire ci assiste e ci conforta in ogni nostra iniziativa Le nostre gallerie sono 13, le gallerie associate sono collocate all'interno del tessuto cittadino saranno aperte naturalmente sabato 26 gennaio dalle 20.30 alle 24 per questa notte bianca, per questa Art City Night e poi saranno anche aperte con orari speciali segnalati nella mappa guida degli eventi Art City Bologna 2013 proprio in omaggio e in sinergia con le aperture istituzionali di questo straordinario programma che quest'anno è la prima edizione in concomitanza con Arte Fiera Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!